Amore mio, è un dolore grande, lo so, ma sapi che questa sconfitta renderà più forte il tuo piccolo cuore giallo russo. Ma non è sconfitta, oggi abbiamo stralinto. Sei sconvolto, lo so, la realtà è dura Alessandro, ma non è sconfitta. Alla macchina la coppa in faccia. Ma che dici? Eh? Forza Lazio papà, forza Lazio, ora e sempre. Ehi, la scuola preferita, ho deciso di fare la prima legna, ma le più belle. Ma che sa di? Che dici? Che dici? Siamo nella squadra della capitale del 1900. Ma chi ti ha insegnato queste cose? Mi hanno detto che la caccia all'ossidio dello stadio, mi hanno detto che abbiamo portato il calcio a Roma e stiamo prima di voi. Ma che sa di? A pulire. Alessandro, vai di là e dopo facciamo i conti. Sì, sì, sempre a parlare, ma poi non dopo fate solo figurazze. Ma come? Io ti affido mio figlio, ma lo riporti dalla Lazio.